I carabinieri e la polizia locale di Veneria Reale hanno arrestato un 43enne di Veneria per rapina aggravata ai danni di una farmacia. Nella mattinata del sabato 30 novembre alle 11.30 la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto la segnalazione di una rapina ai danni della farmacia San Rocco di via Canale a Veneria. L'uomo armato di coltello ha preso l'incasso della mattinata. È scattato il piano antirapina e sono stati istituiti una serie di posti di controllo in zona che hanno permesso di rintracciare il rapinatore. La perquisizione personale ha permesso di recuperare il coltello e l'intero bottino, 850 euro. di resta di bambino, 850 euro. Grazie a tutti.